Io sono la mafia, loro sono la mafia. Un concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma con Noemi per festeggiare 30 anni di DIA, la direzione investigativa antimafia, fortemente evoluta da Giovanni Falcone, magistrato simbolo della lotta contro la mafia. L'anniversario della DIA è l'anniversario di un'azione che noi abbiamo svolto in questi anni di grande coordinamento tra tutte le forze di polizia. Quindi direi che è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per nuovi traguardi in un organismo così che definirei un'eccellenza. Uomini e donne delle istituzioni impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ma anche tante associazioni che portano avanti progetti di legalità. La lotta alla mafia fatta dalle istituzioni è fatta da donne e uomini che tutti i giorni lottano per la legalità e per la nostra sicurezza. Quindi era giusto dare un tributo a queste donne e uomini, pensare ai caduti di mafia e dire che anche nel tempo della rinascita il tema della legalità sarà centrale nella democrazia che vogliamo costruire. Poi la voce di Noemi ha conquistato anche i più giovani. Poi la voce di Noemi ha conquistato anche i grandi italiani. Poi la voce di Noemi ha conquistato anche i miei satelliti inter weeks. Poi la voce di Noemi ha conquistato anche i app墾ati. Dove più o negativi istituzioni completely. Anche se fosse...